Ciao a tutti e bentornati sul mio canale AmanteGDT. Quest'oggi vi andrò a presentare il tutorial di Coffee Rush, il gioco che vediamo qui alle mie spalle. È un gioco edito dalla Asmode per 2-4 giocatori consigliato dagli 8 anni in su e una partita ha una durata di 30 minuti. In questo gioco andremo a simulare una vera e propria giornata in una caffetteria, preparando quindi bevande per i nostri clienti. Non perdiamo dunque altro tempo e andiamo a vedere subito il video tutorial. Partiamo con il setup di gioco. Come prima cosa andremo a posizionare il tabellone ingredienti che è questo qui al centro dell'area di gioco. Dopodiché andremo a posizionare i vari ingredienti suddivisi per tipologia dentro i loro vassoi in un'area che sia accessibile a tutti i giocatori. Stessa cosa faremo per i gettoni fretta. Prenderemo poi il mazzo ordini, che è questo mazzo di carte qui, lo andremo a mescolare e lo posizioneremo anch'esso in una zona accessibile a tutti i giocatori. Ogni giocatore poi sceglie un proprio colore. In questo tutorial farò un esempio a tre giocatori, in quanto a 3-4 giocatori le regole saranno quelle che vi andrò a mostrare in questo tutorial, mentre in due giocatori ci sono delle varianti che vi andrò a presentare a fine tutorial. Ogni giocatore, come abbiamo detto, dopo che ha scelto il proprio colore andrà a prendere questo giocatore la propria plancettina di gioco, la propria pedina, tre tazzine e i suoi quattro gettoni miglioria. Li riconosciamo dalla parte sotto, in quanto come possiamo vedere nella parte sotto poi i gettoni miglioria hanno il colore che abbiamo scelto e le andiamo a posizionare nella nostra plancia a faccia in giù però, quindi dal lato marrone che sia visibile, in quanto a inizio partita saranno non attive. Vi spiegherò ovviamente durante il tutorial come si vanno ad attivare queste tessere. Il primo giocatore poi scelto casualmente va a prendere il gettone primo giocatore e lo posiziona davanti a sé sul lato aperto. A questo punto partendo dal primo giocatore si andranno a prendere delle carte ordine in questa maniera. Il primo giocatore andrà a prendere tre carte ordine, ne posizionerà due sul suo primo slot e una sul secondo slot. Infatti come possiamo vedere alla destra della plancia di ogni giocatore ci sono dei numeri 1, 2, 3 e 4. Vedremo ovviamente perché ci sono questi numeri accanto alla plancia. Come detto il primo giocatore prenderà tre carte ordine, due sullo slot 1 e una sullo slot 2, mentre gli altri giocatori, quindi il secondo e il terzo, prenderanno due carte che andranno a posizionare sullo slot 1 e sullo slot 2. In questa maniera. E come ultima parte del setup di gioco ogni giocatore andrà a posizionare la propria pedina sulla plancia ingredienti. Si partirà dall'ultimo giocatore, quindi dal giocatore alla destra del primo giocatore e si procederà poi in senso anti-orario. Questo solo in questa fase della preparazione del setup. Infatti poi successivamente durante la partita si giocherà dal primo giocatore in senso orario. Quindi come detto parte il giocatore alla destra del primo e andrà a posizionare la sua pedina su un ingrediente a sua scelta. Quell'ingrediente poi lo andrà a prendere. Quindi ovviamente già da questa fase conviene guardare i propri ordini da fare. Infatti durante il gioco dovremo cercare di completare gli ordini che abbiamo al lato della nostra plancia giocatore. Come vediamo queste carte ordine hanno degli ingredienti elencati qui. Quindi noi per fare per esempio questo tè verde avremo bisogno di foglie di tè, acqua e vapore che sono questi tre ingredienti qui. Per cui inizialmente magari possiamo andarci a posizionare visto che già tutti e due gli ingredienti chiedono foglie di tè ci andiamo a posizionare in questa casella e in automatico andiamo a prendere l'ingrediente foglie di tè che possiamo andare liberamente a posizionare in una qualunque delle nostre tazzine. Stessa cosa quindi farà poi l'altro giocatore in senso come detto anti-orario guarderà i suoi ingredienti che servono. Oltretutto li guarderà in maniera che poi dopo come spiegherò nella fase azioni ci andremo a muovere in questa plancettina. Quindi dobbiamo cercare di vedere anche attorno se abbiamo ingredienti che ci sono utili per i nostri ordini. Per cui questo giocatore per esempio si posiziona qui e prende un chicco di caffè come possiamo vedere qui in questa carta e la posiziona nella sua ciotolina. Vi faccio vedere da vicino la carta. Cerca di posizionarsi qui per quest'ordine in quanto per la foglia di tè si è già posizionato quest'altro giocatore e ogni casella non può contenere mai più di una pedina quindi ogni casella è a uso esclusivo. Vi farò vedere poi comunque nella fase di movimento queste regole. Quindi a questo punto passiamo al primo giocatore che guarderà anche lui dove potersi posizionare. Si posiziona per esempio qui e prende il suo ingrediente chicco di caffè. A questo punto il setup è terminato e si può iniziare la partita. Passiamo dunque allo svolgimento di gioco. Come detto partendo dal primo giocatore si procederà poi in senso orario. Il giocatore attivo quindi potrà andare a svolgere cinque di queste fasi. Dico potrà andare perché la prima è facoltativa in quanto la prima fase è attivare le migliorie. Per fare questa azione dobbiamo andare a scartare però tre carte ordine che abbiamo già completato. Quindi noi man mano che completeremo questi ordini come vi mostrerò successivamente andremo a posizionare le carte alla destra della nostra plancia. Quindi se noi abbiamo tre o più carte possiamo decidere di scartare queste tre carte per attivare una delle nostre quattro migliorie. Queste migliorie quando attivate vengono girate dal lato colorato e da quel momento in poi le possiamo andare ad attivare durante il nostro turno. Ovviamente ve le andrò a spiegare successivamente una ad una. Quindi questa fase è facoltativa. Dopodiché c'è la seconda fase che invece è quella di movimento. Andremo a muovere quindi la nostra pedina all'interno di questo tabellone. Possiamo fare fino a tre passi. Possiamo muoverci solo in casella diecenti ortogonalmente quindi non in diagonale. In diagonale lo potremo fare successivamente solo se attiviamo una miglioria che come detto vi andrò poi a elencare a fine tutorial. Allora quindi partiamo il giocatore blu può andare a fare fino a tre passi. Quando io mi muovo posso anche passare sopra una casella occupata da una pedina di un avversario ma non posso mai fermarmi far finire quindi il mio movimento in una casella occupata. Per esempio io potrei fare uno due e tre. Passare quindi qui ma non fermarmi. A quel punto io vado a raccogliere tutti gli ingredienti su cui sono passato. Quindi per esempio qui andrei a prendere un'acqua, un chicco di caffè e un vapore. Ora ho fatto un esempio senza andare a guardare gli ingredienti di cui ho bisogno ma ovviamente il movimento lo andremo a fare in base agli ordini che dobbiamo andare a completare. Quindi per esempio qui chicco di caffè ho bisogno latte e ghiaccio per fare il caffè viennese freddo per cui ovviamente in questo caso mi sarebbe convenuto muovermi così latte, ghiaccio e poi siccome posso fare fino a tre movimenti posso anche fermarmi prima oppure ovviamente già proiettarmi verso altri ordini e quindi prendere un terzo ingrediente per una ricetta per un ordine successivo. Quindi per esempio vado qui. A questo punto andrò a prendere come detto un latte, un ghiaccio, un cubetto di ghiaccio e un altro latte. A questo punto passiamo alla terza fase in cui vado a posizionare i miei ingredienti all'interno delle tazze. Posso liberamente posizionarli tutti in una, in una tazza oppure smistarli in più tazze. In questo caso come detto mi conviene fare così per avere i tre ingredienti di quest'ordine mentre invece il latte lo vado a posizionare in un'altra tazzina. Prima di passare però alle fasi successive torno un attimo sulla fase di movimento in quanto vado ad aggiungere ancora queste regole di movimento. Durante i miei tre passi io posso anche tornare indietro quindi passare in una casella che già avevo appunto superato. Per esempio io ero partito da qui posso anche volendo fare uno, due e tre oppure uno, due e tre. Quindi sono libero di muovermi anche tornando sui miei passi. Questo è bene saperlo come appunto regola di movimento. Inoltre posso fare anche passi aggiuntivi quindi più di tre utilizzando gettoni fretta che vi mostrerò successivamente come si ottengono. Torniamo dunque alla fase 3, quella che dopo il movimento vi ho detto abbiamo raccolto gli ingredienti e li versiamo nelle nostre tazzine. Come detto possiamo versarli tutti in una tazzina o suddividerli in più tazzine. Possiamo anche decidere durante questa fase di svuotare un'intera tazzina di ingredienti in quanto magari quell'ordine come vedremo successivamente ormai è stato tolto perché non abbiamo fatto in tempo a farlo. In quel caso però facciamo un esempio che questi ingredienti non mi servono più posso svuotarla. In quel caso ovviamente questi ingredienti tornano nella riserva non tornano a mia disposizione. Infatti non possiamo mai una volta posizionati gli ingredienti in una tazzina andarli a togliere per mettere in un'altra tazzina. Quelli che mettiamo e decidiamo di mettere una tazzina rimarranno lì a meno che come detto non la svuotiamo e li rimettiamo nella riserva. Quindi questa era la fase 3 versare gli ingredienti passiamo alla fase 4 processare gli ordini. Nel caso in cui io ho completato un ordine come in questo caso prendo la mia tazzina faccio vedere ai miei giocatori avversari che ho completato questo ordine con gli ingredienti quindi svuoto la tazzina la riposiziono qua metto gli ingredienti di nuovo nella riserva comune e questo ordine qui come vi avevo già accennato lo andrò a posizionare alla destra della mia plancia. Durante questa fase se io dovessi andare a completare un ordine di quelli che sono segnati come menu specialità vediamo da questa targhettina qui in alto a quel punto vado a prendere come vi avevo accennato questi gettoni fretta quindi nel caso in cui io completo quest'ordine lo posiziono qui alla sinistra della mia plancia prendo un gettone fretta e lo tengo qui sopra la mia plancia. Stessa cosa vi farò vedere poi come vengono presi ancora i gettoni fretta nel caso in cui un mio ordine come vediamo nelle fasi successive non posso più farlo perché è finito al fondo della mia plancia. Questi gettoni fretta come detto servono per fare più passi io ne posso usare quanti ne voglio quindi ogni gettone mi fa fare un passo in più che ovviamente quando li utilizzo andrò a scartare nuovamente nella riserva. A questo punto durante questa fase dopo che il giocatore ha completato uno o più ordini si va proprio a guardare quanti ordini ha completato e i due giocatori alla sinistra del giocatore che ha completato uno o più ordini quindi in questo caso il secondo il terzo giocatore vanno a prendere un tot numero di carte ordine in base a quanti ordini sono stati completati quindi in questo caso una carta a testa e la vanno a posizionare nello slot 1 chiedo scusa se per questioni di spazio nell'inquadratura non si riesce a vedere bene tutto quanto però appunto i giocatori in questo caso i due alla sinistra vanno a prendere a testa in ordine una carta di queste qui di questo mazzo lo vanno a posizionare nello slot 1. Si passa dunque poi alla quinta ed ultima fase che è fine del turno si fa scorrere il tempo quindi cosa succede gli ordini che si trovano nello slot 1 2 3 o 4 scivolano tutti di uno spazio quindi gli ordini 1 sul 2 il 2 sul 3 il 3 sul 4 cosa succede se abbiamo ordini che sono arrivati facciamo ora un esempio c'è un finta che mi trovavo in questa situazione in questa quinta fase che facevo scorrere il tempo questo scendeva sul 3 e questo che era sul 4 andava perso quindi non sono riuscito a fare in tempo quest'ordine il cliente diciamo così se ne è andato prendo la carta girandola sul lato in giù e la posiziono alla sinistra della mia plancia questa carta mi darà un punto penalità fine partita e mi farà ottenere però in questo momento un gettone fretta che terrò come ho detto sopra la mia plancia dopo quindi questa ultima fase che è quella di far scorrere il tempo si passa al giocatore successivo il mio turno qui termina si giocherà dunque in questa maniera come avete potuto vedere le regole sono semplicissime è un gioco accessibile a chiunque e si gioca in questa maniera fino a che non facciamo scattare la fine della partita che può scattare in due modi o nel primo modo se terminano le carte il mazzo di carte ordine quindi non c'è più la possibilità di andare a prendere di prendere ordini a quel punto il primo giocatore che rimane primo per tutta la partita va a girare il gettone sul lato chiuso si termina quindi il round in corso quindi se è scattata la fine della partita con il secondo giocatore giocherà ancora al terzo e poi la partita termina può finire poi il secondo modo in cui può scattare la fine della partita e se un giocatore arriva ad avere cinque carte penalità quindi le carte che non gli ordini che non è riuscito a completare se arriva ad averne cinque o più perché magari al fondo poi ne va di più stessa cosa il primo giocatore gira il gettone sul lato chiuso e se aveva avuto le penalità le cinque o più penalità l'ultimo giocatore a quel punto la partita termina perché tutti hanno svolto lo stesso numero di turni altrimenti come detto si farà in modo che tutti i giocatori hanno svolto lo stesso numero di turni si passerà quindi poi al conteggio dei punti finali che è semplicissimo in quanto ogni carta ordine completata ci andrà a dare un punto ci andranno a dare poi due punti ogni miglioria che abbiamo attivato e meno un punto quindi punto di penalità ogni carta che non siamo riusciti a soddisfare per passiamo quindi ora ai gettoni miglioria come detto li possiamo andare ad attivare scartando tre carte ordine che ho già completato quindi questo cosa fa ci va a togliere tre punti potenziali che faremo a fine partita però ricordiamoci che i gettoni penalità e schiedo scusa i gettoni miglioria comunque ci vanno a dare due punti a fine partita inoltre sono molto molto utili per andare a completare gli ordini perché man mano che andremo a giocare ci riempiremo sempre più di ordini quindi per completarli avremo necessariamente bisogno di questi aiuti quindi quando decidiamo di attivare un gettone miglioria e come detto scartando le tre carte possiamo scegliere liberamente quale attivare non li dobbiamo attivare in ordine ve li vado a spiegare uno ad uno allora questo gettone miglioria come possiamo vedere da questo simbolo ci va a dare il doppio degli ingredienti quando passiamo su una casella dove c'è un'altra pedina quindi faccio subito un esempio se io sono qui faccio magari uno due tre ricordiamoci sempre che non mi posso fermare dove c'è già una pedina quindi faccio uno due tre prendo un chicco di caffè due foglie di tè perché ho questo bonus e poi un vapore mentre invece per quanto riguarda quest'altra miglioria potrò da quel momento andarmi a muovere anche in diagonale quindi cosa che non si poteva fare mentre invece quest'altra miglioria mi permette di prendere il doppio degli ingredienti quando passo o mi fermo su questi ingredienti chiamiamoli così speciali questi che hanno questo nastrino giallo quindi la foglia di tè il caramello l'acqua e la cioccolata quindi come detto queste migliorie aiutano parecchio sono fondamentali per riuscire poi a risolvere molti più ordini durante un singolo turno vi vado a mostrare ora come vi avevo accennato le regole per due giocatori mostrandovi ovviamente solo le varianti in due giocatori i giocatori prenderanno il colore blu e rosso e avranno a disposizione due pedine a testa invece che una cosa succede ogni giocatore partendo dal secondo giocatore quindi come mostrato in più giocatori partendo dal secondo giocatore quindi prenderà la sua pedina e la posizionerà su una casella sua scelta e prenderà quell'ingrediente facciamo subito l'esempio così poi il primo giocatore farà la stessa cosa quindi si posiziona una casella prenderà quell'ingrediente di nuovo il secondo giocatore prenderà l'ingrediente primo giocatore e così via per quanto riguarda il movimento rimane invariato sempre movimento in caselle ortogonalmente adiacenti non posso fermarmi dove c'è già una pedina o mia o di un mio avversario e oltretutto durante il mio turno andrò a muovere solo una pedina quindi andrò a fare fino a tre passi a meno che non uso gettoni fretta con una mia pedina scelta non posso fare per esempio un passo con questa e due con quest'altra altra variante riguarda il gettone miglioria per ingredienti doppi quando passo su una casella dove c'è già un'altra pedina vale anche per le mie stesse pedine quindi se per esempio io mi muovo uno due e tre anche se c'era una mia stessa pedina qui andrò a prendere se ho attivato questo gettone miglioria andrò a prendere due chicchi di caffè per quanto riguarda poi la fase troppi ordini quando un giocatore va a soddisfare quindi a risolvere un ordine qui in questo caso non è come con più giocatori che i due giocatori alla sinistra vanno a prendere il tot numero di ordini ma ovviamente essendo in due solo l'altro giocatore andrà a prendere il numero di carte ordine in base a quante sono state completate dall'altro ordine dall'altro giocatore e le posizionerà come sempre nello slot 1 della sua plancia e ultima variante quando arriveremo all'ultima fase in cui facciamo scorrere il tempo quindi come vi avevo mostrato scendono di uno slot tutte le carte che abbiamo qui nella nostra plancettina il giocatore che si trova in questa fase andrà a prendere sempre una nuova carta e la posizionerà sullo slot 1 della sua plancia quindi questo andrà fatto sempre la partita terminerà la fine della partita verrà innescata come in più giocatori quindi se termina il mazzo di carte ordine oppure se un giocatore arriva ad avere cinque o più carte penalità quindi carte ordine non soddisfatti a quel punto come sempre si innesca la fine della partita si gira il gettone sul lato chiuso e se era il secondo giocatore ad aver innescato a fine partita termina immediatamente la partita altrimenti sarà il primo giocherà ancora il secondo in maniera come prima come per più giocatori in maniera da far sì che ogni giocatore faccia lo stesso numero di turni siamo giunti al termine di questo video tutorial io spero di avervi aiutato a conoscere a capire le regole di questo gioco in maniera da poter decidere se può fare o meno al caso vostro vi ringrazio di cuore per aver guardato questo mio video e auguro a tutti buon gioco parola l'equilibrio 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 Grazie a tutti.